Caro Hoffman, in questa guerra non possiamo permetterci errori, pertanto intraprenderai un viaggio per radunare gli sfigati rimasti. Grazie per la visione! Non dobbiamo sostenere questa finta pace, dobbiamo attaccare i fighetti! Adesso basta, hai parlato fin troppo, partirò subito per incontrare questo Tommy Milano e fare luce sulla questione. L'hanno preso, i fighetti l'hanno preso! Diamo il benvenuto al presidente Tommy Milano! Questo, amici miei, è l'inizio della guerra più catastrofica di tutti i tempi, la guerra tra sfigati e fighetti. Io, Tommy Milano, io ho risanato questo mondo, ho ripulito tutto il marciume di queste terre, ho dato luce ad una nuova era, io ho eliminato la sfiga da questo mondo! 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 Ciao! 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 Ciao!